rumore di fondo e buongiorno buongiorno signori credo credo di dover spiegare un paio di cosette credo di dover spiegare un paio di cosette del perché io sia sparito per un pochino di tempo dico sia per voi di telegram che per voi di youtube perché io sono sparito per un paio di tempo perché le recensioni non stavano andando avanti perché la maratona enzo dalò era completamente ferma e per voi di telegram che cazzo di fine ha fatto lost posting allora su lost posting ci scrivo una cosa nel fine settimana però long story short non ho più lo sbatti di stare dietro a una colonna sonora di videogiochi il giorno quindi ho scelto che a questo punto dopo 692 giorni di lost posting di essermi un po scazzato e che quindi adesso lost posting diventerà semplicemente postiamo solo quando ne ho voglia poi parlando delle recensioni che sono la cosa seria in questo momento allora il motivo per cui non sono andato avanti con la maratona enzo dalò nell'ultimo mese è perché era spuktober era spuktober e io avevo troppo bisogno di rimettermi in pari con un bel po di film avevo molto bisogno di rimettermi in pari con dei film recuperare un bel po di film horror che mi mancavano tipo venerdì 13 nightmare e un bel po di roba mi sono recuperato troll troll 2 magari potrei parlare anche di quei film però gira e rigira non credo che avrei tantissimo da dire quindi non penso che vedrete delle recensioni a riguardo al massimo potrei fare un audio particolare in cui dico così due secondi quello che penso ma non so che qualità possa venire fuori e il motivo per cui non sono andato avanti con la maratona enzo dalò è proprio perché essendo spuktober io volevo farmi incetta il più possibile di horror e basta e mi sembrava un po brutto nella mia lista dei film visti durante il mese di ficcarci il tutto del tutto del tutto e poi metterci un cartone animato così quindi nulla ragazzi non volevo rompere il mood non volevo rompere il mood di spuktober però adesso siamo a novembre eppure molto tardi perché il 10 di novembre è il 10 di novembre e questo è il primo cazzo di film che riesco a vedere odiatemi ma è il 10 di novembre e io in dieci giorni non sono riuscito a vedere un film io a questo punto 30 di conta novembre quindi novembre a 30 giorni io in questo momento ragazzi ho 20 giorni per vedermi almeno 10 film ho 20 giorni per vedermi almeno 10 film cioè dovrei vedermi un film ogni due giorni se proprio devo però in più ragazzi devo anche vedermi momo la conquista del tempo per continuare la maratona enzo dalò che comunque così come la gabanella il gatto non conta nella lista dei film visti perché li ho già guardati in passato quindi conterebbe come rewatch quindi devo trovare 10 film che non ho visto da recuperare che in realtà ce ne ho perché la mia lista di cinemaniac è a 573 film da vedere ma comunque fatto questo riassunto di ciò che è successo in questo mese qualcosa che giustifica un pochino la mia assenza da il mondo assoluto penso anche per voi di youtube perché qual è l'ultimo video che ho caricato l'ultimo video che ho caricato su youtube è stato il video del della dell'esperienza lucca comics che però caricato così per shit post anche perché volevo far divertire un po di gente però al primo video effettivamente serio non so nemmeno quando è stato oserei dire un mese fa non mi ricordo nemmeno quando l'ho registrato quel famoso vlog ma comunque si continua si continua la maratona enzo dalò oggi parliamo della gabbianella il gatto allora da dove partiamo gabbianella il gatto film del 98 diretto direttamente da enzo dalò ed è basato sul romanzo storia di una gabbianella del gatto che le insegnò a volare dello scrittore cileno luis sepulveda sicuramente l'avrò pronunciato malissimo signor luis se sta ascoltando questo audio per favore mostri pietà nei miei confronti allora ragazzi io ho letto anche il libro ho letto anche il libro però al momento non so bene quale delle due storie raccontare prima se raccontare prima il libro o prima il film perché sono state cambiate un pellino di cose sono state cambiate un pellino di cose e quindi io direi che magari vi parlo prima del film e poi del libro ne parliamo completamente dopo allora qual è la storia? tanto fino a che non arrivo a un certo punto fino a che non arrivo a un certo punto posso parlare di quello che voglio allora qual è la storia long story short? allora praticamente c'è questa gabbiana di nome Kenga che praticamente è in volo insieme allo stormo dei suoi compagni e nulla sul mare tutto bello tutto figo tutto incredibile e lei praticamente aspetta un figlio c'ha l'uovo in pancia ed è contenta che sarà presto madre durante la migrazione lei e altri colleghi si tuffano a capofitto in mare per mangiare, per prendersi il pesce soltanto che Kenga essendo sott'acqua non sente il grido d'emergenza dei gabbiani che dice di scappare via perché? perché cosa è successo? che praticamente a una certa il mare si riempie di petrolio e noi lo vediamo in un'altra scena che questa cosa succede perché una nave colpisce un'altra nave e si riempie tutto di petrolio in realtà nel libro non credo nemmeno venga raccontato come succede succede e basta e Kenga essendo sott'acqua non sente il richiamo e quando esce è completamente ricoperta di petrolio e non riesce a volare, non riesce a tenere gli occhi aperti e fa faticare a respirare eccetera eccetera praticamente uno dei compari le dice ovviamente che cosa deve tentare di fare per continuare a sopravvivere e lei a forza di vagare a stenti sia in mare che in aria volando molto molto male atterra tipo nel giardino di questo gatto di nome Zorba che è questo gatto grosso e nero e praticamente lei in fin di vita fa promettere a Zorba uno di non mangiare l'uovo che lei deporrà due di prendersi cura dell'uovo cioè probabilmente di non mangiarsi l'uovo prendersi cura del piccolo quando nasce e di insegnargli a volare Zorba è lì in predal che cazzo faccio va bene come fa a dirle di no va bene sì faccio tutto quello che vuoi adesso però rimani qui devo andare a cercare aiuto insomma e poi cosa succede? succede che quando Zorba ritorna Kenga ormai ci ha già lasciati Kenga ormai ci ha già lasciati e gli amici di Zorba sono questo gatto un po' più grosso che è segretario no segretario è quello è un altro aspetta è tipo questo pseudo siamese che è segretario quell'altro grande si chiamava colonnello ecco come colonnello che è questo gattone grossone il gatto mammone praticamente e poi c'è c'è lui mannaccia alla miseria c'è lui pallino che è questo gattino rosso con una macchietta rossa su un occhio che io non ce la faccio mi sta sul cazzo è un personaggio filler che nel libro non c'era che hanno dovuto inserire perché uno così il bambino aveva qualcuno in cui immedesimarsi e due serviva un personaggio che sostituisse la scimmia in un altro punto del film ma puttana miseria pallino è il personaggio più filler di tutto il film capisco che la scimmia che è un personaggio che forse poteva essere un attimino un po' troppo estremo perché insomma dal libro non era un personaggio che ti scandalizzavi tantissimo però insomma due o tre cosette forse in un film per bambini sarebbe stato preferibile di no però insomma ci arriviamo ci arriviamo e praticamente cosa succede? succede quando tornano Kenga è morta però effettivamente è riuscita a deporre l'uovo e quindi Zorba decide di mantenere la promessa e di prendersi cura dell'uovo quando nasce il piccolo gabbiano si prende cura del piccolo gabbiano e gli dà da mangiare eccetera eccetera si scoprirà che è effettivamente una gabbiana e che come nome decidono di chiamarla Fortunata proprio perché visto ciò che è successo alla madre lei è stata per l'appunto Fortunata a trovare questi quattro gatti sì sarebbero cinque ma Pallino non conta Pallino non dovrebbe nemmeno esserci quindi mi spiace ma non esiste è un personaggio inutile e insomma cosa succede? cosa succede? praticamente succede che dopo un paio di avvenimenti Zorba capisce che non è sicuro tenere Fortunata in casa sua quindi la porta in questo museo abbandonato che è più o meno il quartier generale di questi quattro gatti ragazzi mi sentirete ignorare Pallino tantissimo nel quartier generale di questi quattro gatti e qui è vero mi sono dimenticato un altro gatto mi sono dimenticato un altro gatto sì è vero c'era anche Diderot Diderot è questo gatto arancione a strisce che vive dentro questo museo e che probabilmente è quello più intelligente di tutti perché lui è quello che si legge le enciclopedie sa leggere eccetera eccetera quindi è quello intelligentissimo di tutti quanti lo portano da Diderot perché così almeno si fanno spiegare un po' di cose come si fa a nutrire un gabbiano come si fa a capire se è maschio o femmina perché a quanto pare stanno assumendo che ci sono solamente due gender però il film era del 98 ancora i nuovi gender non erano stati inventati di stuff it's just a joke e insomma fra cose quella nulla viene portata laggiù cosa succede cosa succede in tutto questo in tutto questo c'è la controparte dei cattivi che sono i ratti e qui una cosa la devo dire ragazzi i ratti sono stati resi infinitamente più stronzi più bastardi con più screen è stata data ai ratti un'importanza che nei libri non c'era nel libro non c'era nel libro i ratti sì c'erano ma avevano veramente un solo capitolo al loro dedicato e basta cioè era quasi un episodio sì ci sono di contesto c'è questo piccolo capitolo dove succede questo ma poi finita lì nel film tipo sono gli stronzi nel film sono gli stronzi del film praticamente sono quelli che si vogliono mangiare la gabbianella vogliono mangiarsi fortunata e tra l'altro ragazzi teniamo a far notare che insomma vabbè sono loro quelle che se la vorrebbero mangiare però la prima volta che lei viene quasi mangiata da questi due ratti in realtà nel libro succedeva con altri due gatti erano altri due gatti che vedevano questa gabbianella cercavano di mangiarsela arrivava Zorba che insomma gli faceva un po' il culo a strisce e questi qui erano tipo no ma ti sei sbagliato noi non volevamo mangiarla no no assolutamente insomma diciamo che un po' di cosette sono state cambiate cioè secondo me va bene i ratti un po' stronzi quella però secondo me gli è stata data molto molta più importanza rispetto a quanta ce ne hanno nel libro nell'opera originale ma comunque cosa succede? succede che ovviamente fortunata è convinta di essere un gatto perché quando è nata letteralmente ha visto il culo di Zorba ha visto il culo thick di Zorba e ha pensato istantaneamente cazzo questa è la mia mamma il suo nome che nemmeno conosco finisce con la quindi è donna quindi è la mia mamma e quindi ce ne mettono un pochino a cercare di spiegare affortunata che lei non è un gatto che è un gabbiano e che deve volare e qui ragazzi entra in gioco il nostro pallino entra in gioco il nostro pallino che in realtà doveva essere uno scimpanse bastardo che fuma anche ed ha una testa di cazzo però insomma cosa succede? succede che pallino è un po' gelosetto eccetera eccetera e ha una certa cosa fa le rivela in maniera veramente stronza bastarda in culo e traumatica che no te sei una gabbiana lo sai perché ti vogliono far crescere non perché ti vogliono bene ma perché vogliono farti ingrassare e così mangiarti che è letteralmente una frase che viene detta nel libro però viene detta dallo scimpanse porca puttana e comunque sia niente lui è lì che stronzo gli dice te non sei un gatto te sono un uccellino ti vogliono mangiare eccetera eccetera però ragazzi cioè anche nel libro cioè anche lo scimpanse nel libro gliela diceva questa cosa però non era così stronza va bene la frase è quasi quella pari pari però non era non veniva detto in maniera così stronza nel libro cioè lì è Pallino che è proprio vaffanculo te sei quella che si sta prendendo tutte le attenzioni gne 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 però cioè tipo litigio tra fratello e sorella e poi vabbè ora posso capire nel film magari fortunata la prende un po' in maniera estrema cioè lentamente scappa via in lacrime eccetera eccetera posso un attimino capirlo se qualcuno te lo viene a dire in questa maniera ma anche nel libro io non ricordo che lei avesse una reazione così esagerata cioè forse succedeva qualcosina ma non da dire che scappava e veniva rapita dai ratti già che era via e tra l'altro ragazzi teniamo anche a mente che quando fortunata scappa e viene rapita dai ratti perché succedono cose nella storia però vi sto dicendo tutto così com'è non voglio entrare in troppi dettagli perché se no non ne usciamo più però insomma fortunata viene rapita dai ratti i gatti vanno a cercarla tutto quanto e senza che a noi ci venga senza che per noi ci si è dato sapere come hanno fatto a capirlo i gatti sanno che fortunata è stata rapita dai topi non ci viene detto come lo hanno scoperto semplicemente la cerchiamo a giro cambio di scena sappiamo che è stata presa dai topi e e in che modo cioè ragazzi è stato un momento dove io ho dovuto rimandare indietro la scena per sentire fra i dialoghi se effettivamente ci fosse un buco di trama pieno pieno perché io pensavo di aver sentito del dove sarà mai finita e poi pallino dire l'hanno presa loro dobbiamo fare l'hanno presa loro dobbiamo fare qualcosa qualcosa di simile e io per un altro ho pensato ma veramente hanno fatto un buco di trama così grande da fargli dire non sappiamo dove sia e la frase dopo è qua dobbiamo andarla a prendere cioè poi per fortuna non è così per fortuna la frase non è così però semplicemente da un cambio di inquadratura sanno dov'è o meglio sanno chi ce l'ha però insomma insomma e che cosa succede succede che devono andarla a riprendere succedeva qualcosa nel libro con i topi però non credo che accadesse che fortunata veniva rapita semplicemente succedevano un paio di cose e zorba andava da solo nell'antro dei gatti nell'antro dei topi letteralmente a dire ehi guardate rompete poco il cazzo perché vengo qui e vi sventro tutti quanti e se ne andava via fierissimo tutti quanti avevano capito nel film insomma lei viene rapita e toponi cantano questa canzone incredibile su come siamo stronzi come siamo brutti prenderemo il controllo del mondo bla 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 pallino arriva vuole riscattarsi un attimino vuole rifare l'eroe cerca di salvare fortunata viene imprigionato anche lui e se solo gli altri gatti non fossero arrivati all'ultimo momento con un cavallo di troia fatto a forma di formaggio che io mi stavo dicendo ma che cazzo sto guardando la persona che addirittura ha letto il libro mi sono detto ma che cazzo sto guardando se non fossero arrivati gli altri a salvarli sarebbero stati già cibo per topi comunque sia ragazzi ribadisco ribadisco assolutamente ai topi è stata data fin troppa importanza rispetto a quanta ce ne hanno nel libro capisco che forse serviva un minimo un cattivo però cioè anche da persona che ha letto il libro cioè la gabbianella e il gatto la gabbianella e il gatto non è una storia da ci serve un cattivo cioè è più una storia di crescita e beh che dire che cosa succede dopo che riportano fortunata a casa è il momento in cui discutono dove lei inizia a capire che non è veramente un gatto però non è tanto sicura di questa cosa e fra fra sbrigati fra meno di 20 minuti finisce il film e dobbiamo insegnarti a volare e insomma cosa succede fanno un po' di tentativi quella ma non sanno più che cazzo fare quindi che cosa fanno a parte colpi di tosse decidono che a questo punto loro hanno fatto tutto il possibile e gli serve un aiuto da parte dei piani alti ossia da parte degli umani e quindi quello che devono fare è comunicare con gli umani però parlare la lingua degli umani per i gatti è tabù non possono farlo cioè in realtà nella lore i gatti sanno parlare la lingua degli umani ma semplicemente non lo fanno perché è tabù però si dicono se noi non ci facciamo aiutare dagli umani non sapremo più che cazzo fare quindi che cosa fanno a parte che trovano un escamotage veramente fiero trovano un escamotage veramente incredibile allora praticamente fra gli umani che abbiamo visto nel corso del film c'è questo poeta barra scrittore che tra l'altro è doppiato direttamente dall'autore del libro è doppiato direttamente da Luis infatti lo sentite parlare strano lo sentite parlare strano e dite ma questo non è un doppiatore italiano grazie al cazzo è l'autore del libro porca puttana soltanto che nel film lui ha una figlia che io fino alla fine del film pensavo che fosse un maschio perché gli fanno dei tratti veramente non molto definiti e tra l'altro la bambina è letteralmente il design che verrà riutilizzato per fare Momo cioè letteralmente ho la foto di lei di cui non ho capito bene il nome forse Nina forse Nina ipotizziamo che Nina fosse lei ho la foto di Nina con accanto la foto di Momo e sono uguali cioè design riciclato semplicemente a Momo le hanno messo i capelli più folti e le hanno cambiato i colori dei capelli e forse i colori delle pupille però vabbè non è importante insomma decidono ad andare da questa bambina perché vabbè il bambino è più probabile che ci creda dal fatto che un gatto parli e ci arrivano per conoscenze perché c'è quest'altra gatta di nome Bobulina che in realtà ci viene presentata all'inizio del film nel libro viene introdotta più o meno quasi verso la fine nel film la conosciamo quasi subito nel libro quasi alla fine però diciamo è la favorita di Zorba insomma fra lei e Zorba non è che c'è del feeling però comunque si aiutano a vicenda ecco è un po' come era un po' come Felicity con Francis di Felide ecco un pochettino così l'unica differenza è che l'unica differenza è che Bobulina vive ma comunque sia l'unica differenza è che Bobulina alla fine del film ha ancora la testa attaccata al collo ma comunque sia praticamente vanno da questa bambina e Zorba trova l'escamotage veramente pazzo letteralmente parla a questa bambina mentre dorme e c'è questa sequenza in sogno dove la bambina sognandosi sogna a Zorba che le parla e le dice che cosa sta succedendo che sono in difficoltà che hanno questa gabbianella che ha bisogno di volare vediamoci in posto X appena ti svegli e lì è un buon escamotage perché sì non puoi parlare con un umano però sei riuscito a parlarci mentre sognava e quindi insomma nei sogni non ti stupiresti nei sogni può essere normale che un animale ti parli quindi insomma hanno trovato un po' l'escamotage incredibile nel libro invece succedeva che non c'era nessuna bambina andavano direttamente dal poeta e Zorba al poeta letteralmente iniziava a pallargli davanti a cazzo duro il poeta sì si cacava un attimino in mano lì per lì però poi capiva la situazione decideva di aiutarli eccetera eccetera letteralmente fa quello che fa la bambina nel film praticamente vanno in cima a questo campanile per lanciare fortunata dallassù letteralmente lanciarla dal punto più alto della città che ora va bene è la soluzione estrema è vero che questa non ha volato per tutto il tempo però se non vola in quel momento penso che non volerà più per il resto dei suoi giorni che sarebbero comunque pochi insomma fatto sta che tutto finisce bene lei cade a questo campanile impara a volare tutta felice e se ne va via compiaciuta è bello in realtà in realtà è bello il film perché se allora come lo definisco il film perché non è brutto non è brutto ci sono sono state cambiate delle cose rispetto al libro assolutamente sì ci sono un po' di cose che secondo me si potevano togliere barra accorciare barra modificare il film già dura un'ora e un quarto secondo me se si fosse ritoccata un po' troppa roba forse sarebbe finito per durare ancora meno anche vero che il libro sono 60 pagine più o meno anche vero che il libro sono 60 pagine non sono tantissime non è molto facile fare non è molto facile fare un film su un libro di 60 pagine cioè dovresti essere molto bravo infatti secondo me anche per quello che hanno un po' allungato la cosa dei topi ora non so quanto l'autore del libro abbia provato certi cambiamenti perché va bene lui ha doppiato le sue scene però non ci è dato sapere se abbia partecipato nel dire guarda mi va bene che i topi vengano resi gli stronzoni della storia che inseriate questo gattino extra cioè per quel che mi riguarda all'autore del libro potrebbero avergli fatto doppiare i suoi dialoghi e poi chi si è visto si è visto però però se devo parlare di come è stata gestita la storia fra film e libro allora secondo me nel film innanzitutto pallino si poteva togliere va bene che insomma era un personaggio un po' così che ce l'ha un attimo il momento importante dove c'è una scena che deve accadere perché accade nel libro seppur con un altro personaggio però non lo so io mi sarei inventato qualcosa per non lasciare cioè mi sarei inventato qualcosa per non mettere pallino nel film perché lo trovo un personaggio veramente troppo filler troppo inutile dove l'unica cosa importante che fa è quella scena che vi dice guarda te non sei un gatto sei un uccello ti vogliono mangiare insomma avrebbero potuto trovare un altro personaggio che avrebbe potuto far quello cioè ora capisco che lo scimpanzé non potevano tenerlo nella storia anche perché non ci avrebbe incastrato tantissimo però insomma insomma non sono sicuro io avrei trovato un altro modo per non mettere pallino e ora che ci ho pensato sì forse voi sarete un attimino confusi dal ma che cazzo ci fa uno scimpanzé in un film dove i protagonisti sono dei gatti un gabbiano e sono letteralmente ad Hamburgo cioè sono in una città sul mare letteralmente e voi vi direte che cazzo ci fanno scimpanzé lì allora in realtà questa cosa nel libro viene spiegata in realtà perché nel libro alcuni cambiamenti sono che dove l'ho scritto dove l'ho scritto vabbè a parte tutta roba che in realtà ci posso far caso così cioè ci posso pensare anche così sul momento in realtà una cosa che è stata cambiata rispetto al libro è che il quartier generale dei gatti non è un museo abbandonato ma è letteralmente questo bazar questo negozio di questo tipo esploratore che letteralmente ha esplorato di tutto nel mondo e ha 20 miliardi di souvenir dentro tra cui c'è pure questo scimpanzé vivo che è tipo animale domesticato e ragazzi non scherzo nel libro ci sono letteralmente due pagine che sono solamente un elenco di quello che c'è dentro il negozio vi ho dato un'idea cioè ragazzi se il libro sono 60 pagine 58 pagine sono di storia e due pagine sono la lista della spesa ma comunque sia insomma insomma secondo me un modo lo potevano trovare cioè non lo so avrebbero potuto gestirglielo un attimino meglio secondo me avrebbero potuto gestire la cosa un attimino meglio anche magari capisco che forse serviva un attimino il trauma il discorso pesante per far capire affortunata che guarda te non sei un gatto te sei un uccello e devi volare però insomma va bene nel libro gli viene detto dallo scimpanse così da solo tipo eh ma guarda ma in realtà nemmeno a me me ne frega un cazzo io lo dico per te per la tua sicurezza cioè te vattene vattene via finché puoi però nel libro cioè nel film è letteralmente pallino che ah vaffanculo si prendono tutti le tue attenzioni gne 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 ti voglio mangiare vaffanculo stronzetta insomma ripeto secondo me pallino poteva tranquillamente non esserci nella storia robert 28 minuti di recensione per far capire che a roberto sta sul cazzo un personaggio filler fatto per per far immedesimare i bambini ma comunque sia no no in realtà sarò sincero sarò sincero fra i libri il film è bello il film è bello è resa abbastanza bene l'aspetto visivo in realtà anche molto carino ci sono delle scene animate che sono secondo me giuste cioè come lo spiego lo stile grafico secondo me è adatto per la storia che vuole raccontare e ragazzi io vengo per le sequenze in sogno io vengo per le scene in sogno che sono tipo abbozzate tipo disegni da bambino ma secondo me sono fatte molto bene cioè ragazzi per dire è quello stile minimale quasi a scarabocchietto anche che sono colorati se dico scarabocchio forse mi viene in mente bianco e nero però tipo questi scarabocchi colorati tipo pastellini vi giuro ragazzi che se c'è io mi guardo se ci fosse se dovesse esserci io un film tutto così me lo guarderei assolutamente me lo guarderei assolutamente un film così quindi nulla anche di aspetto visivo non ci sta male ci sono due o tre momenti di cgi di computer grafica all'inizio però passa quasi subito passa quasi subito e considerato che è un film del 98 italiano passa comunque quasi subito non ci fate caso cioè forse a farlo vedere a un bambino nemmeno lui se ne accorge però parlando anche un secondo del doppiaggio dato che ormai sono a fine no c'è stato un attimo qualche problema di accento quella c'è stato un attimino qualche problema di accento quella che tipo nelle canzoni sentire dire cielo cielo cosa c'era in quella ciotola grazie Harry hai recuperato la mia ricordella adesso potrò ritrovare il mio rospo torna qui Oscar torna indietro ora ricordo ho lasciato Oscar vicino alla serra di erbologia lì ci sono delle piante che mangiano i rospi se avete capito da quale gioco di Harry Potter viene questa cheat bravi e no c'è stato un attimo qualche lettera strascicata qua e là e il doppiatore di segretario il doppiatore di segretario che io l'avevo già sentito da un'altra parte ma non mi ricordavo chi fosse è Valerio Ruggeri e voi vi direte chi cazzo è Valerio Ruggeri Valerio Ruggeri è letteralmente il doppiatore di Tappo di Winnie the Pooh e io per tutto il film mi sono sentito la voce di Tappo e letteralmente stavo dicendo dove cazzo è che l'ho già sentita prima è una voce che ho sentito un botto di volte ma non mi ricordo dove cazzo mi sono letteralmente visto tutti i film più la serie di Winnie the Pooh e non sono riuscito a riconoscere il doppiatore di Tappo cioè io mi vergogno di me stesso comunque sia ora che abbiamo detto più o meno tutto anzi sapete che cosa dato che ho Wikipedia aperta vi dico anche un attimo due o tre cosette che ci sono scritte in fondo ahhh comunque ragazzi il titolo inglese di questo film è Lucky and Zorba sono triste sono triste va bene va bene I am sad comunque dove stava la roba ah no è vero stava nella pagina del libro ecco allora ci sono tanto ve la leggo così le curiosità sul momento ci sono differenze nelle versioni dell'opera Colonnello che nella versione italiana parla un italiano leggermente contaminato dal dialetto napoletano nella versione inglese e in quella originale spagnola parla rispettivamente in inglese e in spagnolo con qualche parola in italiano e già qui apro un attimo una parentesi Colonnello che è questo gattone un po' più capo che però è il finto intelligentone in realtà nel film io non l'ho sentita questa contaminazione suddista non l'ho sentita mi è sembrato che parlasse in maniera abbastanza giusta è nel libro che ogni tanto ci spara qualche guaglione eccetera eccetera nel libro spara due o tre parole in napoletano ma tutto sommato è comprensibile tutto sommato lui è comprensibile e poi cosa c'era il gatto proprietario dell'enciclopedia si chiama Diderone nella versione italiana sì e Einstein in quella inglese va bene e Sabeltodo nella versione spagnola va bene una cosa che non c'è scritta qui perché tanto c'è scritto veramente poco su questo film Rosa dei venti che è questo gatto che arriva a un certo punto della storia dal mare che è quello che effettivamente è l'unico che sa dirgli se la gabbianella sia maschio o femmina perché ricordiamo che nel 98 esistevano solamente due gender credo che nel libro venisse proprio detto che era un maschio se non mi sbaglio nel film l'hanno fatto doppiare da una donna l'hanno fatto doppiare da una ragazza e non lo so mi fa strano mi fa strano vedere questo gatto che mi sembra aver capito sia anche effettivamente maschio ma con una voce che riesco a sentirlo che è di una donna perché va bene anche se non mi sbaglio anche Timmy Turner dei fantagenitori in italiano è doppiato da una femmina e mi sembra che Shinji di Evangelion in giapponese sia doppiato da una femmina pure lui però è il principio del con Rosa dei venti lo sento che è una voce femminile e mi fa strano vederla su un personaggio che credo venisse proprio detto nel film scusate credo venisse proprio detto nel libro che è un maschio quindi insomma insomma va bene Rosa dei venti è un gatto fanboy insomma abbiamo detto tutto? vabbè odiamo sempre di più pallino per il fatto che in alcune scene sia anche effettivamente sgrammaticato cioè letteramente grammatica non esiste e infatti io stavo per incazzarmi quando aveva sbagliato un congiuntivo mi stavo per incazzarmi mi dicevo ma davvero nessuno gli ha fatto presente che questo congiuntivo è sbagliato per fortuna arriva colonnello che lo corre e gli dice ehi guarda coglione si dice in questa maniera e lui procede nel dire bene quella parola non è sbagliarne altre sei ma rimuovete pallino dal film insomma beh che dire beh che dire la gabbianella è bellissimo che è bellissimo che fortunata nei titoli di coda sia scritta come gabbianella porca puttana ce l'ha un nome si chiama fortunata porca puttana perché non avete scritto fortunata nei titoli di coda comunque sì abbiamo finito abbiamo finito con il film e sinceramente fra libro e film allora il film è bello il film è carino si fa guardare le canzoni secondo me l'hanno messe così per tenere viva un po' l'attenzione dei bambini però secondo me consiglio di più il libro è buono è un buon prodotto però secondo me ci sono un po' troppe cose che avrei cambiato ci sono un po' troppe cose che io avrei cambiato e a questo punto vi dico il libro leggetevi il libro che tanto sono 60 pagine e non so dove potete comprarlo perché io detto sinceramente ho cercato store di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare e di e non vorrei dirlo ma letteralmente secondo risultato di google e insomma nulla nulla sono 60 pagine io in un'ora e mezza me lo sono letto tutto e è bellissimo l'aneddoto di io che finisco di leggermi la gabbianella e il gatto in un giorno perché sto lì a leggermelo tutto bello sono preso dalla storia bla 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 finisco il libro molto bello ti rimane dentro il messaggio del vola solo chi osa farlo eccetera eccetera che è una frase bellissima finisco il libro tutta questa maestosità questa storia che mi ha preso dall'inizio alla fine che in un'ora e mezza mi sono divorato io ero in macchina ad aspettare della gente quando ho finito il libro ero probabilmente in una macchina una specie di bar ero dentro la mia macchina in un parcheggio al buio che stavo aspettando mia madre perché l'ho dovuta scarrozzare a giro per tutto il giorno e nei tempi di attesa mi leggevo il libro quindi tipo ho fatto una mezza pausa cioè tipo ho letto la prima metà poi ho riscarrozzato mia madre una seconda volta e mi sono letto la seconda metà dentro questo parcheggio al buio all'aperto finisco il libro con tutta la maestosità che vi ho descritto prima alzo la testa guardo la mia sinistra e la primissima cosa che vedo è il culo di qualcuno che sta pisciando un albero non nel senso che ho visto qualcuno di spalle che pisciava un albero io ho letteralmente visto le chiappe e io non lo so ragazzi io applausi perché davvero mi sto il pensiero che ho avuto in quel momento è stato la terra e l'universo esistono da miliardi di anni l'universo esiste da miliardi e miliardi di anni e in qualche modo una qualche concatenazione di eventi ha fatto sì che nel momento in cui io finissi di leggere nel momento in cui avessi finito di leggere la gabanella e il gatto avrei alzato lo sguardo e alla mia sinistra avrei visto il culo di qualcuno che stava pisciando che credo non abbia nemmeno realizzato che io ero nella loro macchina accanto cioè non credo che abbiano realizzato che io fossi nella macchina accanto perché una certa chi stava in questa macchina ha fatto scendere anche tipo il bambino la bambina e ha fatto pisciare anche lui barra lei all'albero mi hanno detto delle persone avrei dovuto accendere la macchina in quel momento giusto per farli letteralmente pisciare addosso dalla paura però io mi chiedo con quanta concatenazione di eventi quindi nulla nulla la gabanella e il gatto l'avevo già visto in passato però insomma il mio giudizio era sempre secondo me è quello un po' più infantile di tutti di quelli che ho visto di Dalò poi devo ancora ricredermi perché in realtà devo ancora vedere Opopomoz e forse un altro ma non sono sicuro però insomma insomma vediamo vediamo perché il prossimo è Momo la conquista del tempo e quello ve lo voglio spiegare proprio bene Momo la conquista del tempo voglio veramente parlarvi di questo di quel film di che cosa penso però devo trovare il modo per dirlo bene quindi nulla abbiamo finito abbiamo finito e insomma il film della gabanella e il gatto buono è un buon film però vi consiglio di più il libro vi consiglio molto di più il libro quindi tanti saluti mi sa che abbiamo finito un bacione io mi metto forse stavo per dire mi metto a bestemmiare su Isaac però fra poco più di mezz'ora dovrebbe essere ora di pranzo e quindi mi sa che forse mi terrò qualche video di fondo mentre costruisco su Minecraft fino a che non mi chiamano quindi un bacione e è già vero una cosa importante che non abbiamo fatto bevete e restate idratati ragazzi perché sono le una del pomeriggio dovete arrivare a due litri d'acqua vi voglio bene muah grazie a tutti